Lo stop al civi si infiamma il consiglio comunale, duro attacco di Andrea Colombo alla giunta Guazzaroca e alla precedente dirigenza di ATC. Il responsabile, dice l'assessore, sono soltanto loro. Il PDL lancia una causa collettiva dei cittadini. E mentre l'assessore Peri chiede di accelerare i tempi sul People Mover per la provincia, il tratto tra stazione Fiera può essere coperto dal sistema ferroviario metropolitano, un sistema molto meno costoso e rapidamente disponibile. I grillini lanciano l'allarme per il paese di Santa Maria Maddalena di Ripoli, sulla Pennino Bolognese che secondo gli ultimi calcoli sta collassando a valle a causa dei lavori della variante di Valico. Lo spostamento finale sarebbe di quasi 15 centimetri, 200 abitazioni a rischio. La decisione dell'assessore Frascaroli di inserire nella consulta per la famiglia anche alcune associazioni gay divide la politica. Per il sindaco Merol il problema è solo come rispondere ai bisogni, ma l'Udc attacca, inaccettabile. Aveva una vera e propria piantagione di marijuana in giardino, un bolognese di 47 anni sorpreso durante un controllo stradale mentre fumava uno spinello. Nella sua abitazione i carabinieri hanno scoperto un chilo di droga e diverse piantine. Buonasera a tutti, dalla redazione di ETG è stata una seduta del Consiglio Comunale particolarmente calda, particolarmente ricca di tensioni, quella di oggi. Ovviamente in primo piano ancora la vicenda Civis, come sappiamo l'infrastruttura è stata bloccata, sospesa dal Comune dopo le tante polemiche di questi anni. Oggi ha parlato in Consiglio l'assessore alla viabilità Andrea Colombo con parole molto dure, molto nette, molto decise. Ha attaccato la giunta Guazzalocca responsabile, dice Colombo, di avere scelto appunto il Civis. Dure parole anche contro la precedente dirigenza dell'ATC presieduta da Maurizio Agostini. La colpa è anche loro, ha detto sempre Colombo. E' subito arrivata ovviamente la replica dell'opposizione. Facciamo il punto nel primo dei nostri servizi. Il Civis approda in Consiglio Comunale. L'assessore alla mobilità Andrea Colombo fa il punto sulla situazione dopo lo stop ai lavori e individua le responsabilità di chi volle quest'opera. I responsabili sono coloro che, ed è una giunta, un Consiglio Comunale e un sindaco di ben altro colore politico rispetto a quelli finora citati, scelsero un filobus a guida ottica che è precisamente il sistema, oggi oggetto di bocciatura dal punto di vista della sicurezza, al posto di un tram per cui c'erano già i finanziamenti, non si stava perdendo nessun fondo, bastava attuare quel progetto. Responsabile è quell'ATC guidato da qualcun altro rispetto all'attuale Presidente che firmò sciaguratamente un contratto che prevedeva all'articolo 19,3, non c'è nulla di segreto, penali pari al 10% del valore del contratto, 18 milioni di euro per non avere nulla, e che firmò un contratto in cui si prevedeva il pagamento del mezzo, nonostante non fosse ancora stato e non sia ancora stato rilasciato il nulla osta definitivo. Responsabili quindi di questa vicenda sono quelli che nel 2003, alla fiera Europolis, presentavano in pompa magna il nuovo grande progetto Civis, il Presidente di ATC Maurizio Agostini e il Sindaco Guazzaloca. Grazie. Le opposizioni non ci stanno. Questa storia che uno è bravo e l'altro non è bravo, devo dire, ha veramente sfiancato. La domanda è se nel 2005 ATC ha detto che quel mezzo non lo voleva perché li abbiamo messi in rimessaggio e chi li paga? La domanda l'ha già fatta Carella, come mai non vi siete mai mossi? Come mai non avete alzato un dito o presentato un pezzo di carta in procura, se questa è la realtà che oggi ci rappresenta? Ma io dico che al di là della vicenda Civis di per sé bisognerebbe che tutti facessero un bagno di umiltà per rispettare quei contribuenti, quei cittadini che in questi anni durante i lavori hanno visto la vivibilità urbana compromessa per i cantieri, per la città sventrata. Poi dico che la ricerca delle colpe ormai spetta l'autorità giuridico-giudiziaria che ha delle indagini in corso, quindi poi vedremo come e dove individuerà delle responsabilità. In questa vicenda, che secondo me è nata male, rischia di finire peggio. Insomma, sembrano davvero tante le responsabilità e di diversi colori politici le responsabilità appunto sulla vicenda Civis e come sottolinea anche il coordinatore provinciale dell'Udc Maria Cristina Marri che ricorda come gli investimenti per la manutenzione cittadina si siano ridotti dai 100 milioni di euro del 2004 ai 23 milioni di oggi dopo la giunta Guazzalocadice e ancora Marri. Le amministrazioni successive, nelle quali Merole è stato prima assessore e poi sindaco, hanno prodotto un risultato che significa strade dissestate ed edifici scolastici più pericolosi. Non si può addossare esclusivamente ad altri le responsabilità di attuazione e gestione dei lavori del Civis che hanno prodotto danni a tutta la città. L'opera si poteva bloccare in tempo, conclude Marri, e anche scegliere soluzioni diverse, ma né Cofferati, né Del Bono, né Merola lo hanno fatto, anzi hanno sostenuto la validità dell'infrastruttura con dichiarazioni pubbliche. Queste appunto le parole di Maria Cristina Marri, ma intanto il consigliere comunale del PDL, Michele Facci, assieme alla sua associazione Popolo dei Consumatori, invita i cittadini a fare ricorso per i disagi del Civis. Sentiamo. Michele Facci, lo stop dei lavori al Civis quali conseguenze determina? Sicuramente questo stop improvviso determina una serie di problematiche non indifferenti, perché per tutti coloro che hanno avuto per mesi, per un tempo prolungato, disagi alla libertà di movimento, hanno avuto danni economici incredibili alle proprie attività commerciali, sequestrati dai cantieri per settimane, per mesi, tutti i costoro potrebbero oggi, alla luce di questo nuovo scenario, avanzare richieste risercitorie. Per questo motivo il Popolo dei Consumatori dell'Emilia Romagna, in particolare noi di Bologna, stiamo attivando, abbiamo attivato un numero verde, un indirizzo di posta elettronica emilia-romagna, chiocciola-popolodei-consumatori.it, per accogliere tutte le doglianze di costore, valutare le possibili azioni di esercitore da portare avanti nei confronti di tutti coloro che saranno ritenuti responsabili di questo. Perché è impensabile che a distanza di 4 anni dall'avvio dei cantieri, che hanno trasformato la città a distanza di 6-7 anni dagli impegni contrattuali, ci si accorga oggi che qui in mezzo non era idoneo ad assolvere quella funzione. E parliamo di un'altra infrastruttura che sta creando diversi problemi, la variante di Valico, la frana di Ripoli-Santa Cristina, si sposta di un centimetro ogni 12 giorni. Il dato allarmante è stato evidenziato in Regione dal Movimento 5 Stelle, che chiede di fermare immediatamente i lavori. Sentiamo allora il consigliere regionale dei Grillini, Andrea De Franceschi. Sentiamo il microfono di Massimo Ricci. La variante di Valico sappiamo, l'abbiamo visto, l'abbiamo documentato anche con le nostre telecamere, che sta creando grossi problemi nella frazione di Ripoli-Santa Cristina. Voi avete dei dati? Abbiamo tutti gli ultimi dati aggiornati, anche se Autostrada ha cercato di negarli, li abbiamo avuti per altre vie. I dati sono veramente allarmanti, perché si vede chiaramente che ci sono 2 milioni di metri cubi di terra che sono lì, che si stanno spostando a valle di molti centimetri. E chiaramente ieri il Servizio Geologico della Protezione Civile ha detto che c'è un pericolo per la pubblica incolumità. Di questo Autostrade ovviamente non si vuole rendere conto, il Sindaco non se ne vuole rendere conto, ha chiesto un appuntamento urgente che dovrebbe essere lunedì con il Prefetto, perché qui c'è da tutelare la pubblica incolumità. L'area è interessata da questo slittamento, da questo problema. Quanto è grande? Cioè quante persone potrebbero essere potenzialmente a rischio? Allora stiamo parlando all'incirca di 200-250 abitazioni, unità abitative, quindi si stima intorno alle 300-400 persone. In più c'è il grosso problema della ferrovia a valle che scorre immediatamente sotto la frana, quindi c'è un problema anche di pubblica sicurezza dei trasporti. Stiamo parlando del collegamento tra nord e sud di questo paese. Secondo lei cosa bisogna fare? Evacuazione della popolazione? Fermare subito i lavori della variante? Cosa è necessario fare subito? Ma qui non c'è nulla da evacuare, se non quello che ovviamente è stato danneggiato e che si spera che si possa riparare. Qui non è che possiamo evacuare un intero paese e distruggere per l'incompetenza di dei tecnici un intero paese. Qui i lavori vanno fermati immediatamente e si deve ragionare su un percorso alternativo che c'era già, era già stato indicato prima, si doveva passare molto più a monte in mezzo a delle rocce dure dove si fanno davvero le gallerie e non all'interno di una frana che hanno cercato di ignorare fino a che non hanno più potuto cioè al mese scorso. Sempre in tema di trasporti, mentre alcuni progetti vanno in soffitta e altri si arenano, l'assessore provinciale Giacomo Venturi ha presentato un nuovo collegamento del servizio ferroviario metropolitano tra stazione e quartiere fieristico. Andiamo a vedere di cosa si tratta nel servizio di Gabriele Sciarra. In tema di trasporto pubblico, Bologna è sostanzialmente al palo, il sistema è quello di decenni orsono e il nuovo non decolla. Del metro non si parla nemmeno più, il Civis, l'unico del quale erano partiti i cantieri, si è incastrato tra le maglie della procura e lo stop del comune. Il people mover sembra pronto per la posa della prima pietra, ma giusto ieri l'assessore regionale ai trasporti, Alfredo Peri, si è chiesto quando mai sarà posata. Di trasporti dunque si parla tanto e si realizza nulla o quasi. Così, prima che possano finire gli argomenti, se ne propongono di nuovi. L'ultimo è uscito questa mattina da Palazzo Malvezzi, sede della provincia. Si tratta di un progetto per il collegamento ferroviario tra stazione e quartiere fieristico. Un percorso confermate presso il nuovo comune, il CNR, le Aldini, il futuro polo tecnologico e infine la zona fiera. Nel presentarlo, l'assessore provinciale ai trasporti, Giacomo Venturi, ha ammesso che questo progetto di collegamento, già denominato linea 6 del servizio ferroviario metropolitano, in parte ricalca il percorso del futuro people mover, una sorta di sdoppiamento, ma fa notare Venturi in grado di servire molte altre zone della città. In ogni caso, ha concluso l'assessore provinciale, bene, ha fatto peri ad accelerare ieri sul people mover. Risolve i problemi di collegamento tra stazione e aeroporto, ha detto Venturi, e sarebbe un segnale di modernizzazione del territorio. Ha presentato una querela per lesioni gravi, la donna di 61 anni che il 6 ottobre scorso è stata investita, mentre stava attraversando a piedi l'incrocio Rizzoli-Indipendenza nel pieno centro di Bologna, da un autobus della linea 27 che l'ha schiacciata contro le transenne a protezione dell'angolo di marciapiede, procurando le serie ferite ad una gamba ancora ricoverata e reduce da un intervento due giorni fa. La donna nella querela riferisce che aveva quasi finito l'attraversamento, ma che si è spaventata per la velocità del bus e si è addossata alle balaustre, ma l'autista avrebbe proseguito ugualmente, stringendola ancora di più. La procura ha aperto un fascicolo. La pagina politica, era a Bologna oggi il capogruppo in Senato del PDL, Maurizio Gasparri, che è ospite dei nostri studi. Vedremo l'intervista integrale questa sera ad Edelus, ma intanto vediamo uno straccio dell'intervista in cui Gasparri parla di temi politici di attualità e del Presidente del Consiglio Berlusconi. Sentiamo le sue parole. Come vede invece Silvio Berlusconi in questo momento? Perché venerdì scorso, una settimana fa, c'è stato un passaggio parlamentare delicato e importante, la maggioranza assoluta per un voto, sembra tutto risolto, ma come lo vede Berlusconi in questo momento? Lo vedo sicuramente affaticato da questi problemi e da queste responsabilità. Non è che lo vedo meglio di altri leader del mondo occidentale. Obama ha perso la maggioranza del congresso, Berlusconi ce l'ha. La Merkel ha perso tutte le elezioni locali, noi anche nel Molise per poco, pertanto abbiamo rivinto le elezioni in una fase molto complicata per chi governa. Sarkozy in ogni sondaggio è dato per perdente e voterà le presidenziali l'anno prossimo. In Inghilterra l'estate è stata infuocata, quindi Berlusconi guida il governo di una nazione occidentale che è all'interno di questa grande crisi, quindi lo vedo alle prese con questi problemi. Ci deve aggiungere poi una oggettiva persecuzione giudiziaria nei confronti di Berlusconi. Giorni fa è stato prosciolto, lo dico perché c'è un processo, cancellano i testimoni. In un altro caso ha visto la magistratura sulle vicende, intercettazioni, hanno litigato tra di loro i magistrati, hanno fatto tutto da solo. A Napoli hanno aperto un'inchiesta, poi un giudice di Napoli ha detto ma che c'entriamo noi? Lui ha incontrato della gente ad Arcore, quell'altro gli ha parlato al telefono a Roma, non so dove, quell'altro abitava a Bari e hanno detto noi non c'entriamo niente. Poi quelli di Bari hanno detto no, non c'entriamo niente neanche noi, c'entrano quelli di Roma. Lei ha capito bene chi è competente su queste inchieste, io non l'ho ancora capito. Bari, Roma, Napoli, intanto hanno deciso, venga qua come testimone, no anzi, poi lo hanno quasi definito una sorta di imputata, ha fatto qualche gaff all'epoca, non si capisce niente, c'è un accanimento. Poi giorni fa leggiamo, media trade, roba di gestione delle sue televisioni, Berlusconi ha detto sono anni che non me ne occupo, se ne occupo mio figlio, se ne occupo a confarinieri. I giudici di Milano, che sono gli stessi, che ce l'hanno a cura, hanno detto è vero, Berlusconi non c'entra. E torniamo ad argomenti locali, continua la polemica sull'ingresso di due associazioni gay nella consulta per la famiglia del comune di Bologna, oggi continuano gli scambi al vetriolo tra maggioranza e opposizione. Sentiamo. Sale di tono lo scontro sul ventilato ingresso di due associazioni gay nella consulta per la famiglia di Palazzo d'Accursio, dopo l'out-out delle ACLI che hanno minacciato di uscire dalla consulta se fossero entrate le due associazioni e dopo le parole del sindaco Merola che facendo il verso a Franco Califano ha dichiarato dobbiamo aiutare la gente, tutto il resto è noia. Oggi nuovi scambi di battute tra l'assessore al welfare Frascaroli, regista di tutta l'operazione, che non fa passi indietro spiegando che la famiglia è cambiata e portando a sostegno della sua tesi la definizione di famiglia data dall'Istat che evidentemente la Frascaroli ritiene più autorevole della Costituzione italiana. Sul tema interviene anche il segretario del PD, Raffaele Donini, che parla di un'inutile disputa ideologica sulla famiglia. Disputa che però sta facendo discutere e pesantemente all'interno del partito. I cattolici hanno infatti preso le distanze. Interviene duramente anche Maria Cristina Marri dell'Udc. Considero gravissimo il comportamento dell'assessore Frascaroli che spinge inopportunamente sull'inserimento di nuove associazioni senza che questo rientri nella sua competenza. Marri sottolinea anche con rammarico la più totale ignoranza istituzionale o la volontà di piegare statuto o regolamenti a soluzioni preferite. Ciò, conclude, è sintomo di grave decadenza politico-istituzionale. La cronaca, un controllo alla circolazione stradale costato l'arresto a Salvatore Maestri, 47enne, pregiudicato di Baricella, fermato la notte scorsa a Minervio durante un controllo dei carabinieri, mentre fumava uno spinello alla guida della sua vettura. I militari lo hanno trovato in possesso di altri due grammi di marijuana. Nella sua abitazione di Via Savena Vecchia, i carabinieri hanno anche scoperto un chilo della stessa sostanza stupefacente in fase di essicazione con tanto di bilancino di precisione. In giardino poi altre 20 piante di marijuana, tutto ovviamente sequestrato dai militari dell'arma. Manette ai polsi per Salvatore Maestri, per il quale la magistratura ha disposto il processo per direttissima. Noi ci fermiamo per un attimo, solo per qualche istante, torneremo insieme tra pochissimo. Nuovamente insieme dagli studi di ETG, prima di proseguire rivediamo gli argomenti principali di questa sera. Lo stop al civis infiamma al Consiglio Comunale, duro attacco di Andrea Colombo alla giunta Guazzalocchi e alla precedente dirigenza di ATC. Responsabili, dice l'assessore, sono soltanto loro. Il PDL lancia una casa collettiva dei cittadini. E mentre l'assessore Peri chiede di accelerare i tempi sul People Mover per la provincia, al tratto tra stazione e fiera, può essere coperto dal sistema ferroviario metropolitano, un sistema molto meno costoso e rapidamente disponibile. I grillini lanciano un'allarme per il paese di Santa Maria Maddalena di Ripoli sull'Appennino Bolognese, che secondo gli ultimi calcoli sta collassando a valle a causa dei lavori della variante di Valico. Lo spostamento finale sarebbe di quasi 15 centimetri, 200 abitazioni a rischio. La decisione dell'assessore Frascaroli di inserire nella consulta per la famiglia anche alcune associazioni gay divide la politica. Per il sindaco Merola, il problema è solo come rispondere ai bisogni, ma l'Udc attacca, è inaccettabile. Aveva una vera e propria piantagione di marijuana in giardino, un bolognese di 47 anni sorpreso durante un controllo stradale mentre fumava uno spinello. Nella sua abitazione i carabinieri hanno scoperto un chilo di droga e diverse piantine. Andiamo avanti con il giornale. 1500 famiglie della bassa bolognese nella zona di Bentivoglio vedranno interamente coperti il loro fabbisogno energetico grazie al nuovo impianto fotovoltaico di Era posizionato sui tetti delle magazzini generali dell'Interporto. Massimo Ricci ne ha parlato con i vertici dell'azienda. Sentiamo. Presidente Castagna, l'inaugurazione di un nuovo impianto fotovoltaico per Era qui all'Interporto, quali sono le dimensioni e i numeri di questo impianto? Questo è un impianto piuttosto importante perché realizza una potenza elettrica di 3,6 MW una potenza elettrica data da 23.000 pannelli che si estendono su un'area di circa 4 ettari quindi un impianto fra i più grandi dell'Emilia-Romagna ed è una parte importante dell'elettricità fotovoltaica prodotta a Bentivoglio che è di oltre 8 MW sull'Interporto. Con l'energia prodotta da questo impianto significa rispermiare 700 tonnellate tonnellate di petrolio sono una quantitativa importante. Qual è il messaggio che vuole dare alle istituzioni e ai cittadini su quelle che sono le fonti rinnovabili e l'utilizzo appunto di energia pulita? Non possiamo permetterci come Paese e come investitori di fare delle scelte che poi in corso d'opera vengono radicalmente modificate. Quindi la prima regola è scegliamo delle strade condivise e su queste però avere la forza di andare avanti. Parliamo di spettacolo non è esagerato definirlo il più grande trasformista d'Europa visto l'enorme successo che riscuote già da tempo anche oltre Alpe. Si tratta di Arturo Brachetti con il suo Brachetti Ciac si gira sarà all'Europa Auditorium fino a domenica. Andiamo a vedere allora un'anticipazione dei suoi trasformismi con Alessia Salvatori. Allora entriamo nel pieno del cartellone hai detto che si apre con Brachetti Ciac si gira il venerdì 21 ottobre fino a domenica 23 ottobre esclusiva regionale. Esclusiva regionale. Arturo nuova produzione arriva da un successo straordinario di Parigi tre mesi di tutto esaurito alle Folibergé al Teatro Folibergé di Parigi una richiesta incredibile per un tour mondiale ha scelto l'Italia ha scelto l'Italia per una parte di questo tour mondiale che lo porterà nei più grandi paesi del mondo e lui Alessia è il più grande trasformista del mondo se gli amici telespettatori guardano nel Guinness dei privati lui è un italiano fortunatamente ed è denominato come il più veloce trasformista al mondo nel libro dei Guinness. Sfonda la quarta parete quindi ha un rapporto anche diretto col pubblico scherza col pubblico e ripercorrerà i grandi personaggi o i grandi momenti visivi dei più grandi film che hanno fatto la storia del cinema dell'ultimo secolo. Non andate via torneremo insieme tra pochissimo Un momento insieme con ITG in ultima notizia di sanità prima di chiudere dire e fare cuore la campagna di Teva Italia azienda leader mondiale nel settore dei farmaci equivalenti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari che fa tappa a Bologna domani in Galleria Cavour dalle 10.30 alle 17.30 i medici e farmacisti del territorio saranno a disposizione dei cittadini per la misurazione gratuita di pressione arteriosa colesterolo glicemia e della fibrillazione atriale una delle cause principali di ictus saranno anche distribuite le brochure dire e fare cuore i buoni che potranno essere utilizzati dal 24 al 29 ottobre nelle farmacie del consorzio mia farmacia aderente all'iniziativa per la misurazione gratuita dei valori appena elencati dire e fare cuore è organizzata anche con la collaborazione della società italiana di medicina generale Federpharma Alice Italia Ollus Comune di Bologna e Microlife tutto in vista del 29 ottobre che sarà la giornata mondiale della lotta all'ictus cerebrale siamo in chiusura non rimane che leggere che rivedere insieme gli argomenti principali di questa sera lo stop al civi si infiamma al consiglio comunale duro attacco di Andrea Colombo alla giunta Guazzalocca e alla precedente dirigenza ATC i responsabili dice l'assessore sono solo loro il PDL lancia una causa collettiva dei cittadini e mentre l'assessore Peri chiede di accelerare i tempi sul people mover per la provincia il tratto tra stazione Fiera può essere coperto dal sistema ferroviario metropolitano un sistema molto meno costoso e rapidamente disponibile i grillini lanciano l'allarme per il paese di Santa Maria Maddalena di Ripoli sull'appennino bolognese che secondo gli ultimi calcoli sta collassando a valle a causa dei lavori della variante di Valico lo spostamento finale sarebbe di quasi 15 cm 200 abitazioni a rischio la decisione dell'assessore Frascaroli di inserire nella consulta per la famiglia anche alcune associazioni gay divide la politica per il sindaco Mero il problema è solo come rispondere ai bisogni ma l'Udc attacca aveva una vera e propria piantagione di marijuana in giardino un bolognese di 47 anni sorpreso durante un controllo stradale mentre fumava uno spinello nella sua abitazione di Minervio i carabinieri hanno scoperto un chilo di droga e diverse piantine è tutto per questa edizione di ITG grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata grazie per la visione